Gli antibiotici hanno permesso di salvare molte vite. Oggi, però, sono spesso usati a sproposito. Ad esempio, per il raffreddore e l'influenza non servono. Meglio stare al caldo e aspettare il naturale decorso dell'infezione. I microbi nel caso di un uso eccessivo di antibiotici diventano sempre più forti e resistenti, riducendo l'efficacia di questi farmaci. Fai decidere al medico quando e come prendere gli antibiotici. Antibiotici, efficaci se necessari, dannosi se ne abusi. È un peccato usarli male. Campagna per l'uso responsabile di antibiotici, promossa dal Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna.